questo video è realizzato in collaborazione con la pagina facebook serie tv and soap di cui trovate il link in descrizione endless love cara sedda anticipazioni di giovedì 25 e venerdì 26 luglio 2024 mentre la polizia porta via emir asu rientra in archivio per recuperare la pistola leila si avvicina a kemal il quale le spiega di aver denunciato emir per evitare che altre persone muoiano a causa sua leila gli risponde che pagherà un caro prezzo per questa scelta ma kemal è consapevole delle conseguenze mentre asu se ne va leila esprime a kemal la sua crescente paura che possa succedergli qualcosa di brutto kemal la rassicura dicendole che non accadrà nulla di male ma confessa di essere stanco di sopportare i crimini e le minacce di emir sostiene che il modo giusto per proteggere tutti non è restare in silenzio e tollerare ma raccontare tutta la verità perché quello che emir ha fatto è troppo e la verità libererà tutte le vittime da lui nel frattempo asu presa dal panico e dalla paura chiama tu fan mentre è in auto gli racconta che lo zio a chi l'ha tradita e che ora emir sa che lei è sua sorella tu fan le dice che lui deve restare accanto a emir per non destare sospetti e le chiede quali siano i suoi piani asu risponde che tornerà a casa e non dirà nulla a suo zio se non che emir è stato arrestato e poi cercherà un modo per mettersi al sicuro alla stazione di polizia osane ed emir vengono separati e condotti in stanze diverse mentre i loro avvocati chiamati dalle famiglie arrivano sul posto emir esercitando il suo diritto chiede di fare una telefonata chiama tu fan ordinandogli di seguire costantemente asu fino a quando lui non sarà rilasciato tu fan riesce a malapena a rispondere prima che emir chiuda la chiamata lasciandolo turbato che mal ha un colloquio privato con il commissario al quale chiede perché ha arrestato osane ed emir proprio durante la festa insinuando che l'abbia fatto per ottenere fama e prestigio tradendo così la parola data il commissario evita la domanda e risponde che è meglio interrogarli il prima possibile allora che mal afferma che osane è innocente come un bambino sotto minaccia e chiede che si tenga conto di questo l'avvocato di osane incontra la sua famiglia fuori dalla stazione di polizia e li rassicura sul fatto che osane sta bene chiede se hanno qualcosa da riferirgli e mentre nian sta per parlare viene fermata da galip l'avvocato si allontana lasciando tutti a domandarsi che abbia fornito alla polizia le prove dell'omicidio di linda proprio in quel momento arriva kemal esortando tutti a dire la verità alla polizia come ha fatto lui vildan e galip si scagliano contro kemal furiosi mentre onder gli dice che ha sbagliato a denunciare ma kemal risponde che sono morte troppe persone e che non è lui ad aver sbagliato tuttavia nian arrabbiata gli ordina di andarsene e capendo la difficile situazione kemal si allontana l'interrogatorio di emir e osana inizio osan spiega che era la prima volta che incontrava le ragazze e pensava che la pistola fosse scarica emir invece sostiene che si di una trappola organizzata da karen per estorcergli del denaro poi afferma di non sapere dove si trovi linda e sa che karen è morta il commissario gli rivela che karen è stata uccisa e gli chiede se sa chi l'ha uccisa nian chiama tu fan da parte e gli dice di essere a conoscenza di tutto gli chiede se è stato lui a fornire le prove a kemal ma tu fan nega tutto allora nian lo avverte che emir lo ucciderebbe se lo scoprisse ma tu fan continua a negare con fermezza nian però lo rassicura dicendogli che non rivelerà nulla a nessuno poiché non lo ritiene responsabile di quanto sta accadendo attribuendo invece la colpa a kemal kemal si reca da zehir e gli ordina di mandare i suoi uomini a proteggere leila e i suoi genitori senza che se ne accorgano tuttavia è preoccupato per zeynep che è sola e in difesa nella casa dei kosjolu prevede che la situazione diventerà più difficile e teme che emir continuerà a lottare anche dalla prigione kemal afferma anche che l'indagine sarà approfondita e verrà fuori che emir è il responsabile di tutto e questa volta il suo potere e la sua reputazione non saranno sufficienti a salvarlo e tutti sapranno chi è veramente banu chiama tarik per avere aggiornamenti e tarik le dice che la polizia sta ancora interrogando emir banu sembra felice e spera che la giustizia faccia il suo corso lasciando tarik perplesso durante l'interrogatorio emir continua a negare di sapere chi ha ucciso karen ma il commissario lo esorta a confessare minacciando di trattenerlo lì tutta la notte poi aggiunge di sapere che emir ha seppellito linda e di sapere anche in quale cimitero avendolo visto con i propri occhi quando kemal sta per andarsene zehir gli chiede come stia e kemal risponde negativamente affermando che starà bene solo quando emir sarà morto e quando nyan ozan e tutti gli altri saranno liberi dalle sue manipolazioni asu torna a casa dello zio acchi e si scopre che ha ideato un piano con tu fan fingerà di non sapere nulla con lo zio del quale non si fida più e quando avrà l'occasione ruberà le chiavette per darle a tu fan mettendosi così al sicuro entrando in casa asu informa lo zio che emir e ozan sono stati arrestati per l'omicidio di linda a chi reagisce male alla notizia e si ritira in camera sua con una scusa il commissario è con ozan il quale giura di non aver fatto nulla intenzionalmente il commissario gli rivela che le prove indicano ozan come una vittima innocente ingannato da emir che è il vero colpevole a quelle parole ozan ha una crisi e viene chiamata un'ambulanza per portarlo via la sua famiglia vuole accompagnarlo ma l'abbocato li ferma spiegando che osana è comunque sotto arresto e non potranno vederlo nemmeno in ospedale nian allora furiosa si reca a casa di kemal accusandolo di voler distruggere il suo matrimonio con emir per riaverla kemal nega dicendo di non rimpiangere nulla di ciò che ha fatto e che a lei a dover fare i conti con la sua coscienza per aver sempre taciuto sull'omicidio di una donna aggiunge che emir deve pagare per i suoi crimini e che nian è libera di decidere se divorziare o meno ma le garantisce che nulla di ciò che ha fatto è stato per farla tornare da lui nian turbata prima di andarsene urla a kemal di pregare che non succeda nulla osana terminano così queste anticipazioni io sono desi e se volete vi invito a iscrivervi al mio canale per non perdervi i prossimi video un abbraccio e ci sentiamo nei commenti con i vostri pareri sulla puntata